La Russia rappresenta uno dei mercati di riferimento per quanto riguarda la calzatura con 3 milioni di paia di scarpe acquistate per un fatturato pari a 220 milioni di euro ed una crescita nell'ultimo anno del 9%. L'Ucraina, che invece importa 400 mila paia di scarpe italiane per un valore di 30 milioni di euro, ha addirittura registrato una crescita del 16%. I mercati di Russia e Ucraina sono prioritari per la calzatura italiana e per quella fermana in particolare, a diversi livelli con una clientela che risponde ad una domanda di beni di lusso e di fascia alta. Sono dei paesi importanti dove si organizzano periodicamente appuntamenti feristici attesi da tutte le imprese del comparto calzaturiero come l'Obof di Mosca che ci sarà dal 29 marzo al 1 aprile. Da parte del calzaturificio c'è il massimo impegno soprattutto per tutelare i produttori nazionali e soprattutto già avevamo provveduto a spostare le fiere per cercare di avvantaggiare i compratori per farli venire in Italia e adesso francamente ci troviamo un po' spiazzati. Nei prossimi giorni provvederemo con nuove iniziative, nuove richieste soprattutto alla politica perché in questo frangente francamente è una linea di attesa, dobbiamo aspettare per vedere un po' come si evolvono le situazioni. Certo che è molto complessa la situazione politica internazionale e speriamo soprattutto che dall'istituzione ci sia un occhio di riguardo per le imprese perché tutte le imprese del nostro territorio, la gran parte, lavorano con questi mercati. Dopo due anni di pandemia sommati al caro energia che sta mettendo in ginocchio insieme all'inflazione l'impennata dei costi delle materie prime, la ripresa tanto attesa per il comparto calzaturiero del Fermano appare sempre più lontana. È un'ulteriore crisi profonda perché già eravamo nella melma, adesso siamo andati sulle sabbie mobili. È diventato, non so, non sai più cosa, quale santo dovresti pregare per dire che è incredibile perché dopo il 2013 che abbiamo avuto questo, diciamo, già un calo di vendite che mano a mano, mano a mano si stavamo organizzando, è arrivato il Covid. In contemporaneo il Covid è arrivata questa benedetta guerra che noi, chi più lavora come me, lavora per il 70-80% con l'est Europa, è una cosa da non raccontare perché siamo ancora in casa con tutte le scarpe da consegnare e tutte destinate a questi paesi dove noi non riusciamo ancora a parlare con i clienti, qualcuno che ci risponde dicono che stanno sotto i tunnel perché hanno paura di morire.